il trash è bello ma quando dura poco il pubblico italiano è diverso da quello spagnolo ed ecco perché spesso chiamare concorrenti esteri per il grande fratello vip è un'arma a doppio taglio il concorrente in questione quest'anno è oriana marzoli che ha fatto tanti reality show in giro per il mondo sul web è nota per essere un attaccabrighe per i suoi litigi nei vari reality e per le sue storie d'amore per questo quando è stata annunciata il pubblico social non vedeva l'ora di vederla le lingue taglienti piacciono ma quando poi esagerano è facile ritrovarsi il pubblico contro ed è ciò che è successo a oriana nel giro di pochi giorni quando è entrata nella casa oriana piaceva molto al pubblico italiano leggendo qui e là sui social questo era il sentiment poi però ha avuto delle uscite verso altri vipponi velenose e a tratti cattive che non sono affatto piaciute per esempio quando ha denigrato micoli in corvaia dicendo che aveva i capelli sporchi e chiedendo a edoardo donna maria come avesse fatto a starci insieme un po cattivella è stata insomma poi ha litigato con edoardo tavassi e nel litigio si è sentita accusare di creare storie d'amore nei reality altrimenti non avrebbe altri contenuti a questa accusa ha deciso di replicare dicendo a tavassi che almeno lei può permettersi di avere un fidanzato lui invece no durante la puntata di stasera non si è rimangiata nulla anzi secondo lei dire che qualcuno ha i capelli sporchi alle sue spalle con tanto di gesto di disprezzo non sarebbe grave e allora è lecito chiedersi il grande fratello vip ha davvero bisogno di questo tipo di concorrenti forse il trash a cui il pubblico italiano è abituato è ben altro insomma non a caso adesso tanti hanno smesso di sostenere oriana in seguito alle sue uscite velenose all'estero i reality funzionano in maniera diversa non sempre è la scelta migliore pescare concorrenti da lì per portarli qui